Professoressa Morri, ci troviamo qui al consorzio via Portogallo. Alcune classi del liceo Einstein hanno fatto visita alle cooperative sociali. Siamo nel contesto dell'alternanza scuro lavoro in un progetto dedicato alle professioni del sociale. Allora questo è un progetto dedicato alle professioni del sociale e abbiamo coinvolto varie classi su alcuni ambiti che sono l'immigrazione, le dipendenze e un'altra classe che non è presente oggi sul tema del carcere. Hanno fatto in ambito di questo percorso sull'immigrazione e sulle dipendenze un laboratorio di simulazione di come si crea una cooperativa sociale sia di servizi che di inserimento lavorativo. Quindi nella prima parte concluderanno questa simulazione rispettivamente al percorso che hanno iniziato a scuola. Come è nata la scelta della formica? Come è avvenuto il contatto? Sì, il progetto in realtà ha toccato e sta toccando moltissime realtà del territorio per cui noi parlando di ad esempio immigrazione abbiamo prima svolto un lavoro di ricerca in classe, abbiamo coinvolto un avvocato che ci aiutasse a capire gli aspetti teorici, abbiamo incontrato la Caritas, incontreremo la realtà RM25. Quindi abbiamo incontrato la formica anche proprio per vedere gli aspetti legati all'inserimento lavorativo. Così nell'ambito invece delle dipendenze abbiamo incontrato e siamo andati a visitare il CERT, incontreremo la cooperativa, la comunità di Vallecchio, la comunità di San Patrignano. Quindi in realtà l'abbiamo contattata ma l'abbiamo inserita in uno sguardo che riguarda tutto il territorio e tutti i servizi che nel territorio si occupano di questo settore.